A Sor Chiara di Mauro intitolata la salita della chiesa di Grotta Santa. Scopertura della targa di intitolazione a Sor Chiara di Mauro della scalinata che c'è dalla grotta della parrocchia Maria Santissima Adonata Grotta Santa. Alla cerimonia di stamana ha pure residenziato il sindaco Francesco Italia. La monaca santa è vissuta a cavallo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi dello scorso secolo. Mistica e stigmatizzata, per lei è ancora in corso la causa di beatificazione. La proposta di intitolazione era stata fatta lo scorso anno dall'associazione Amici di Sor Chiara di Mauro. L'associazione, riconosciuta canonicamente proprio da Monsignor Lomanto due anni fa, intende diffondere la figura, le opere e i miracoli. La spiritualità di una figura ancora oggi poco conosciuta dai suoi stessi concittadini, con il fine della ripresa di un processo di beatificazione che da troppo tempo attende un'immediata e assai auspicata ripartenza. Una celebrazione si è tenuta proprio in quel luogo sacro, definito dalla stessa Sor Chiara, la Grotta delle Rivelazioni, nel quale si ritirava in preghiera e in meditazione, dove dimorava a volte anche dormendo sulla nuda terra, nel quale aveva delle visioni celestiali, durante le quali colloquiava con Gesù e con la Madonna.